Dopo le otto reti segnate alla squadra dell'equip AIC Calabria, nella seconda uscita stagionale, i Rosso-Blu sabato mattina hanno sostenuto un'altra seduta di allenamento dedicata al lavoro di potenza aerobica. Al termine dell'allenamento, Mr. Drago ha concesso alla squadra un meritato riposo, fissando il ritrovo per domenica sera, per essere così pronti lunedì mattina a rialenarsi. Gli unici due calciatori a continuare la preparazione agli ordini del preparatore atletico nocera saranno Correia e Vintò, che stanno seguendo un programma di preparazione personalizzato. Martedì, intanto, è fissata la terza amichevole che vedrà il Crotone giocare a San Giovanni in Fiore alle 17 con l'Interreggio, una formazione calabrese del CND. Vintò, tornato a disposizione di Drago, è ai nostri microfoni. Kevin, si era parlato tantissimo del tuo possibile trasferimento a Lecce, ma c'erano altre squadre che erano interessate alla tua prestazione. Constatiamo con piacere che sei ritornato qui a Crotone. Sì, infatti, sono ritornato. Scusami, quanto è di peso da te questo? Questo l'ho scelto io, sì, sono ritornato alla fine dei giocatori. Io l'ho sempre detto, anche a fine anno, al mister, ho detto che tornero volontiere e poi devo mettermi d'accordo con la società. E questo si è fatto veloce. Ci sono tutti i presupposti per poter ricominciare come così abbiamo finito il campionato l'anno scorso, perché abbiamo fatto una buona parte interessante di campionato. Quest'anno si può ricominciare bene, considerando che Supergiore è lo stesso gruppo? Infatti, ripartiamo dal 80% della squadra e quello dell'anno scorso, poi con il mister che ha fatto bene la seconda parte del campionato. Quindi sì, c'è tutto per ricominciare bene questo nuovo campionato e provare a dare di più dell'inizio dell'anno scorso. Sono importanti queste amichevoli? Il test vero principale sarà il 12 in Coppa Team con il Lanciano. Ci sono i presupposti per far bene? Sì, adesso stiamo lavorando, gli altri ragazzi della squadra hanno già iniziato da una settimana. Tu quando ricomincerai a giocare? Io mi sono aggregato martedì, ho fatto al più presto per venire, poi appena sono in condizione mi metterò a disposizione del mister. Per il momento sto lavorando sulla parte fisica. Dopo sì, arriva questa partita contro il Lanciano e sarà un bel test per preparare il campionato. Gli unici due da sostituire saranno Florenzi e Sansone, poi su per giù siamo quasi gli stessi. Sì, siamo gli stessi. Poi altri giocatori che erano già qui l'anno scorso, che hanno lo stesso posto di Florenzi e Sansone, che hanno fatto bene anche l'anno scorso, quindi siamo fiduciosi. Non voglio metterti in difficoltà Kevin, cosa mancherebbe secondo te a questa rosa? Cosa mancherebbe? Non lo so, bisogna aspettare le prime partite per dirlo. Penso che siamo a posto così, poi deciderà il mister, la società. Io faccio il calciatore. Non lo so, sei diplomatico anche. L'ultima battuta, l'unico handicap sono i punti di penalizzazione, che però devono indurci a far meglio e a dare di più, quantomeno nella prima parte del campionato. Ormai siamo abituati a questi punti, quindi dai, non ci pensiamo. Noi inizieremo il campionato senza pensare a questi punti, magari questi punti ci saranno... Maggiore spinta? Bravo, per iniziare bene, perché partendo dietro gli altri daranno stimoli in più. behindri. Grazie.